salve care amiche e cari amici qui ancora una volta il vostro santen chan che faccio questo video tolgo un po la protezione al mio cellulare che si ascolti meglio l'audio e faccio questo mio video adesso che mi trovo fuori casa la mattina molto presto che mi hanno accompagnato a fare delle pratiche e come si potrà vedere come non si potrà vedere e vi faccio questo breve messaggio e la mattina veramente molto presto allora visto che sono un po stanco comunque che si può fare se ci si deve svegliare a volte alle 6 e volevo fare questo inciso cioè dirvi quante e quanti di voi rimarranno delusi dal fatto che dopo anni dopo anni dal 2010 dal 2011 che hanno lanciato questa piattaforma google plus che doveva essere migliore di facebook adesso quelli di google ci hanno ripensato e cancelleranno con tutta probabilità la piattaforma sociale il network il social network social net google plus perché ha molte falle di programmazione e avrebbero rubato l'identità o clonato di molti utenti e ci hanno speciato google e plus come una cosa una cosa che doveva essere la perfezione e infatti molte e molti di noi abbiamo spesso anni dal 2010 2011 a pubblicare in google plus piuttosto che in facebook perché facebook è il luogo delle fake news dove trovi sempre degli haters che ti perseguitano allora ci siamo spostati cioè io non dico di essermi cancellato da facebook anche se avevo dura conto e loro me ne hanno chiuso uno però quando nel 2014 15 o 16 mi hanno chiuso il mio primo conto che avevo presso da prima del 2009 in facebook ho continuato con l'acconto del 2013 e adesso è molto cresciuto il mio conto di facebook in pratica cio 1200 contatti dei quali il 99 per cento non parlano l'italiano e quindi non leggono i miei post a che mi serve stare in facebook infatti ultimamente non c'entro più nel 2016 nel 2017 ancora c'entravo quasi ogni giorno e ci stavo addirittura col cellulare ore nel 2015 nel 2016 nel 2017 ma già nel fine 2017 inizio 2018 praticamente centro in facebook una volta ogni tre mesi eppure troppo perché non conosco nessuno conosco poche persone ormai non ci seguiamo più perché si dedicano a altre cose e in pratica quasi non entro in facebook sto più tempo in instagram ma c'è stato un inizio dal 2013 al 2015 che sono stato molto presente in google plus ho caricato molto materiale ho fatto molte pagine ho fatto gruppi e adesso un po mi sconfincerà l'idea che chiuderanno google plus e dai veramente poi io ho dei vestiti così standard perché io sono disoccupato quindi anche perché mattina molto presto non so quando editerò e quando caricherò questo video però ho dei vestiti che sono un dark sono dark ma ieri o l'altro ieri ho fatto un live che ho fatto una parodia sui riti afro brasiliani e statici di possessione e dove lì non ero vestito dark ci avevo una una maglietta una canottiera rosso sgargiante quindi vi invito a tutte e tutti voi a guardare condividere il mio ultimo live che ho fatto ieri o l'altro ieri facendo una parodia del dell'umbanda della chi va in banda del candomblé di questi riti afro americani ma allora dicevo voi che mi dite voi che mi commentate di questa chiusura di google plus vi sembra giusto vi sembra giusto che rimedino in questo modo alla vulnerabilità della rete sociale dopo anni che siamo stati in google plus condividendo le nostre vite con tanti sforzi con tanta dedicazione ci dovrebbero risarcire o no allora mi raccomando sotto questo video mettete il vostro commento il vostro commentario voglio sapere cosa ne pensate nella chiusura di google plus se vi sembra giusto se vi sembra giusto che chiuda google plus se vi sembra giusto se potevano correggere i bugs perché sono stati affettati più di 500 mila usuari chissà forse saranno 5 milioni o 50 milioni o 5 miliardi di usuari e chissà oppure se fanno bene a chiudere se dovevano chiudere già da tempo perché molti dicono che google plus è stato un flop che non è risultato quello che loro volevano e questa operazione l'hanno già fatta con orkut prima si sono comprati orkut e poi lo hanno chiuso mi sembra che si erano completi comprati flirc da yahoo e poi l'hanno venduto ad altri quindi adesso che google plus non so se era un'altra piattaforma che loro l'hanno chiamato google plus adesso la chiudono così come hanno chiuso orkut perché aveva solo 87 milioni di utenti mi chiedo succederà lo stesso a youtube chiuderanno prima o poi youtube chiuderanno qualche altra applicazione di google non vi scordiate che probabilmente lo stesso brown swear di del web col quale mi state guardando cioè google chrome e loro lo hanno adattato alle loro esigenze di adsense perché in origine google chrome era google era un brown swear chiamato latinium ed era open source gratuito e loro hanno fatto da chrome e platinium platinium hanno fatto google chrome che è di proprietà della google distribuzione gratuita ma proprio da loro poi una volta che ti compie un nuovo dispositivo e che apri la sessione con chrome google chrome tutti tutte le annotazioni che hai salvato in un altro dispositivo li appaiono lì quindi loro sanno tutto quello che fai ci potranno essere delle falle persino google chrome io credo di sì come credo che ci saranno delle falle di programmazione anche in youtube e in altri servizi come gmail che succederà chiudono adesso google plus chiuderanno gmail chiuderanno youtube così molte e molti di voi che dovevano essere pagati da youtube non saranno pagati ecco io mi chiedo cosa ne pensate voi della chiusura di google plus se avete qualche idea se avete qualche pensiero se avete qualche domanda se vi piacerebbe che io in seguito parli ancora della chiusura di google plus mi raccomando lasciate delle risposte fate delle domande perché se il video non sarà visto abbastanza volte sufficienti volte allora mi dedicherò a un altro tema e mi raccomando non soltanto di dare like o dislike a questo video se vi piace o meno e di sotto le risposte fare delle domande o dirmi voi cosa ne pensate della chiusura prossima di google plus ma soprattutto di condividere questo video fra quante più persone possibile per dare anche a loro l'opportunità di commentare questo video quindi mi raccomando aspetto con ansia le vostre risposte e da adesso vi lascio perché fra poco anch'io dovrò entrare in questa clinica devo fare delle analisi e poi niente sarò tutto il giorno fuori casa il vostro santin chan ed appena potrò caricherò questo video gli darò un buon formato mi raccomando condividete il mio video date molte persone lo l'opportunità di commentare commentate voi stessi fatemi sapere cosa ne pensate guardate il mio ultimo live che è umoristico satirico sui riti di possessione afro brasiliani e poi guardatevi quanti più video potete miei quindi vi lascio il vostro sentenza vi lascia e vi chiede ancora una volta cosa ne pensate della chiusura prossima annunciata di google plus ecco forse avrei dovuto accendere la luce penso sempre che la luce è sufficiente quella che c'è invece poi l'immagine viene deficiente allora vi ringrazio di tutto ciao tanto non voglio essere ripetitivo se no viene troppo largo il video e poi ci metto troppo tempo ad editarlo grazie di avermi seguito ciao